C'è uno scandalo qua dentro, noi abbiamo un'area, tutta un'area, una palazzina che potrebbe ospitare più di 80 persone che è vuota da 14 anni. Allora io mi chiedo come questo possa essere possibile. Così Laura Boldrini, deputata del PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, all'uscita dalla casa circondariale di Arezzo, annunciando anche un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia. Chiederò al Ministro Nordio spiegazioni di come è possibile che in un momento in cui c'è sovraffollamento, in un momento in cui già si sono tolte la vita 20 persone, 20 detenuti dall'inizio dell'anno, si possa tenere un'intera palazzina in questo Stato, nonostante ci siano i fondi che sono stati già destinati, quindi solo per problemi burocratici. È durata circa tre ore la visita dell'onorevole all'interno del carcere di San Benedetto, dove ha incontrato direttore, detenuti, polizia, penitenziaria e le associazioni che vi operano. A me sembra una situazione su cui si potrebbe lavorare benissimo, perché c'è anche un direttore appena eletto, giovani, ma con lo spirito giusto, con la voglia di fare tanto per questi detenuti. C'è un buon clima, abbiamo mangiato insieme, abbiamo fatto questo pranzo. Insomma, credo che l'aspetto positivo è che appunto la struttura è contenuta, quindi si può lavorare bene, però bisogna mettere a frutto tutto quello che si ha e qui si ha un potenziale che è inespresso, è lasciato in stato di abbandono. Un'interalla della struttura resta ancora inutilizzata, perché le celle, nonostante siano state ristrutturate, avrebbero le porte troppo strette e dunque sarebbero inutilizzabili per motivi di sicurezza. Siamo andati a misurare queste porte, le porte troppo piccole, ma io non capisco quale possa essere il problema delle porte troppo piccole, perché se un detenuto si sente male, chiaramente viene preso e accompagnato in infermeria, oppure trasportato fuori e portato in ospedale, visto che qui l'infermeria è molto molto piccola, ci sono adesso poco più di 40 detenuti, di che parliamo. Ma quello che non si giustifica è lasciare, poi anche il deperimento della struttura, perché se tu non fai lavori di ristrutturazione, quella palazzina lì, che è una bella palazzina, i soffitti alti, una struttura buona, deperisce.